mister kernan disse con una certa solennità io sono la risurrezione la vita ti tocca nel più profondo del cuore è vero disse mister bloom il tuo cuore forse ma chi gliene importa il disgraziato tra quattro assi e sei piedi per due coi piedi sotto le margheritine niente da toccare la sede degli affetti cuore infranto una pompa dopo tutto che pompa tutto il giorno migliaia di galloni di sangue un bel giorno si tappa e ci siamo ce n'è un sacco distesi qui intorno polmoni i cuori fegati vecchie pompe arrugginite al diavolo tutto il resto la risurrezione e la vita quando sei morto sei morto quell'idea dell'ultimo giorno farli saltar fuori tutti fuori dalle tombe sorgi lazaro e cammina e lui invece fermo alzatevi l'ultimo giorno e poi ognuno a cercarsi il fegato e le budella e tutti gli annessi e connessi ritrovare tutto quanto se stesso dell'accidente quel giorno un pennyweight di polvere in un cranio dodici grammi un pennyweight peso della scala troi conny keller si mise al passo al loro fianco tutto è andato come l'olio disse no riguardava con occhio sonnacchioso spalle da pizzardone con il suo trallallera trallallà come doveva disse mister kernan cosa disse corny keller mister kernan lo rassicurò chi è quel tale dietro con tom kernan chiese john harry menton lo conosco di vista ned lambert ned lambert diede un'occhiata indietro bloom disse madame marion tweed che era eh voglio dire un soprano è sua moglie ah già disse john harry menton non la vedo da un po' di tempo era una bella donna ho ballato con lei vediamo la bellezza di 15 17 anni fa la mette d'ailon around town era un bel tocco di donna guardò dietro al di là degli altri lui chi è chiese che fa non si occupava di cartoleria una sera ho avuto a che dire con lui mi ricordo giocando a bocce ned lambert sorrise si disse fu da whitsome haley piazzista di carta assorbente il nome di dio disse john harry menton che si è sposata a fare con un ghiozzo come quello aveva parecchi numeri lei a quel tempo ne ha ancora disse ned lambert lui fa il piazzista di inserzioni pubblicitarie i grandi occhi di john harry menton guardarono avanti la carriola girò un sentiero laterale un uomo corpulento in agguato tra l'erba alta si levò reverente il cappello gli affossatori si toccarono il berretto john mcconnell disse mr power soddisfatto non dimentica mai un amico mr o'connell strinse la mano a tutti in silenzio mr dedalus disse sono venuto a farle un'altra visita caro simon disse il custode a bassa voce non le auguro davvero d'essere mio cliente salutando ned lambert e john harry menton si incamminò a fianco di martin canningham giocherellando con le due chiavi dietro la schiena avete sentito chiese loro quella su mulch e di coomb io no disse martin canningham inclinarono i cilindri all'unisono e highness tese l'orecchio il custode appese i pollici alla catena d'oro dell'orologio e si rivolse con voce discreta ai loro sorrisi vacui si racconta disse che due ubriachi venissero qua una sera in cerca della tomba di un loro amico chiesero a mulch e di coomb e fu loro detto dove era sepolto dopo aver vagato un po nella nebbia trovarono la tomba senza fallo uno degli ubriachi decifrò il nome terence mulch e l'altro ubriaco squadrava una statua del salvatore fatta erigere dalla vedova il custode squadrò una delle tombe su cui stavano passando accanto riprese a dire e dopo aver squadrato la sacra immagine non gli somiglia un accidente dice non è mulch e questo dice chiunque l'abbia fatta ricompensato da sorrisi rimase indietro a parlare con corny keller ricevendo da lui alcune schede che rivoltava e verificava nel camminare tutto questo lo fa con uno scopo preciso spiegò martin canningham a hynes lo so disse hynes lo so bene per tenere su il morale disse martin canningham è pura bontà di cuore ma il diavolo se non è così mister bloom ammirava la massa imponente del custode tutti ci tengono ad essere in buoni rapporti con lui brava persona davvero un brav'uomo chiavi come l'inserzione della ditta case non c'è pericolo che uno scappi niente controlli all'uscita habeat corpus devo pensare a quell'inserzione dopo il funerale ho scritto balbridge sulla busta che ho preso per coprire quando lei mi ha disturbato mentre scrivevo a marta speriamo che non sia insabbiata nel reparto lettere smarrite farebbe meglio a farsi la barba barba grigia e dura è il primo segno quando i capelli diventano grigi e il carattere si nacidisce fili d'argento in mezzo ai grigi figurati a essere sua moglie c'è da domandarsi come ebbe la faccia di dichiararsi a una ragazza un cuore e un cimitero farglielo brillare davanti agli occhi potrebbe anche stuzzicarla da principio fare la corte alla morte le ombre della notte aleggiano intorno con tutti i morti stesi qua e là le ombre delle tombe quando i cimiteri sbadigliano e Daniel O'Connell deve essere un discendente credo chi è che diceva che era un bel tipo di stallone gran cattolico lo stesso come un colosso nell'oscurità fuochi fatui gas delle tombe bisogna non ci pensi mai se vuoi rimanere incinta le donne poi sono così suscettibili raccontarle una storia di fantasmi a letto per farla dormire hai mai visto un fantasma? meglio sì era una notte buia come un forno l'orologio stava per battere la mezzanotte capaci di baciare lo stesso se sono eccitate a dovere prostitute nei cimiteri turchi imparano qualunque cosa se si prendono giovani si può anche pescare una vedovella qui gli uomini sono fatti così amore tra le tombe Romeo salsa piccante del piacere nel mezzo della morte siamo in vita gli estremi si toccano supplizio di tantano per i poveri morti odore di bracciole alla graticola per morti di fame che si divorano le viscere desiderio di titillare la gente Molly lo voleva fare alla finestra comunque ne ha otto di figli ne ha visti andare sottoterra un bel po' ai suoi giorni riempire i campi intorno uno dopo l'altro più spazio se li seppellissero in piedi a sedere o in ginocchio non si può in piedi potrebbe anche darsi che la testa affiorasse un giorno per una frana con un dito puntato deve essere come un alveare il terreno celletto blunge e lo tiene anche per benino erba pari pari orli alle aiole il suo giardino il maggiore gambe lo chiama Mount Jerome e così è dovrebbero essere i fiori del sonno i cimiteri cinesi con piantagioni di pavaveri giganti producono il miglior oppio ma detto Mastiansky l'ortobotanico è subito dietro il sangue succhiato dalla terra da una nuova vita la stessa idea in quegli ebrei che si diceva avessero ucciso un ragazzo cristiano ogni uomo ha il suo prezzo cadavere grasso di signore ben conservato un epicureo prezioso per un frutteto un affare per la carcassa di William Wilkinson revisore contabile recentemente defunto tre sterline tredici scellini e sei pence con ringraziamenti penso che il terreno si ingrasserebbe bene concimato di cadaveri ossa carne unghie fosse comuni spaventoso diventa rosa e verde si decompone va in potrefazione presto nel terreno umido i vecchi magri più duri poi una specie di impasto segoso una specie di formaggio poi cominciano a diventare neri e nei cola fuori una melassa poi rinsecchiti farfalle dei morti naturalmente le cellule o come diavolo si chiamano seguitano a vivere si ricombinano praticamente non smettono mai di vivere niente da mangiare mangiano se stesse devono generare un fottio di vermi il terreno ne deve pullulare la testa non te la fa proprio girrare quelle belle ragazze in riva al mar dopo tutto sembra abbastanza allegro gli dà un senso di superiorità vedere gli altri andare sotto terra per primi chi sa come vede la vita e gli piace anche raccontare barzellette gli riscalla le valvole del cuore quella del bollettino superzè un partito per il cielo stamani alle quattro antimeridiane undici di sera ora di chiusura non è ancora arrivato Pietro ai morti poi agli uomini almeno piacerebbe sentire una barzelletta o due e le donne sapere le ultime sulla moda una pera suosa un pons per signore caldo forte zuccherato contro l'umidità due risate bisogna pur farle quindi meglio farle così gli affossatori dell'amleto dimostra la profonda conoscenza del cuore umano non osano scherzare con i morti per almeno due anni demortuis nil nisiprius prima uscire di lutto difficile immaginarsi il suo funerale sembra uno scherzo leggere il proprio annuncio mortuario dice che allunga la vita ti fa riprendere fiato nuova erogazione di vita quanti ne ha per domani chiese il custode due disse corny keller dieci e mezzo e undici il custode si mise i fogli in tasca la cargiola aveva smesso di rotolare il gruppo si divise in due e gli accompagnatori si disposero ai due lati della fossa cercando accuratamente di evitare le tombe gli affossatori portarono la barra e ne posarono la testata sull'orlo avvolgendo intorno le funi seppellirlo siamo venuti a seppellire il cesare le sue iti di marzo o di giugno non si sa chi c'è e non gliele importa ma chi è quello spilungone laggiù col macintosh chi è vorrei sapere pagherei qualche cosa per sapere chi è spunta fuori sempre qualcuno che non ti sognavi neanche uno potrebbe vivere nel suo buco solo tutta la vita sì certo ma avrebbe sempre bisogno di qualcuno per calarlo nella fossa anche se se la fosse scavata con le sue mani tutti lo facciamo solo l'uomo seppellisce i morti no no anche le formiche quel che colpisce subito seppellire i morti dicono che Robinson Crusoe è realistico bene allora lo seppellì venerdì ogni venerdì seppellisce un giovedì a pensarci bene Robinson mio poveretto come hai fatto solo o soletto povero Dignam l'ultimo indugio sopra la terra nella sua cassetta pensando a quanti ce n'è sembra proprio uno spreco di legname tutto rosicato si potrebbe inventare una bella bara con una specie di pannello scorrevole scaricarla a quel modo già ma potrebbero non gradire di essere scaricati da quella di un altro sono così schizzinosi seppellitemi nella mia terra natia zolla della terra santa solo la madre il bambino nato morto si seppelliscono nella stessa bara capisco cosa significa capisco loteggerlo finché è possibile anche sotto la terra la casa dell'irlandese e la sua bara imbalsamazione nelle catacombe mummie la stessa idea mister bloom si era fermato dietro col cappello in matto raccontare le teste scoperte dodici sono il tredicesimo no quel talico Macintosh è il tredicesimo il numero della morte da dove diavolo è uscito non era nella cappella ci giurerei sciocca superstizione quella del tredici che bel tweed soffice quel vestito di Ned Lambert un'ombra di violetto ne avevo uno così quando si abitava a Lombar Street West una volta ero un elegantone si cambiava tre volte al giorno devo far rivoltare da Mesias quel mio completo grigio ora è tinto sa moglie dimenticavo che non è sposato o la sua padrona di casa gli avrebbero dovuto riprendere quei fili la barra scomparve fatta scivolare giù dagli uomini a gambe spalancate sopra le assi gettate sulla fossa si rialzarono spostandosi con fatica e tutti si scoprirono venti se a un tratto tutti fossimo qualcun altro lontano ciucoragliò pioggia non tanto asino non se ne vede mai dicono vergogna della vergogna della morte si nascondono anche il povero babbo se ne andò via una dolce brezza aspirava con un sussurro sulle teste scoperte sussurro il ragazzo a capo della fossa reggeva la sua corona con ambedue le mani fissando tranquillamente il vano nero aperto mister Bloom si portò dietro al corpulento bonario custode marsina ben tagliata forse li soppesa con lo sguardo per vedere chi se ne andrà per primo beh è un lungo riposo non sentire più solo al momento si sente deve essere diabolicamente spiacevole non ci si crede da principio ci deve essere un errore qualche altro provate alla casa di fronte aspetti volevo non ho ancora poi la camera ardente abbuiata luce vogliono mormorio tutto intorno vorresti il prete poi vagante incerto delirio quello che avevi nascosto tutta la vita lotta con la morte il suo sonno non è naturale premere la palpebra inferiore guardare se il naso è affilato la macella è rilassata le piante dei piedi sono gialle tirare via il cuscino e lasciarlo finire per terra già che è condannato il diavolo in quel quadro della morte del peccatore che gli mostra una donna muore dalla voglia di abbracciarla in camicia l'ultimo atto della Lucia ne congiunga un nume in ciel bam spira partito finalmente la gente ne parla per un po' se ne dimentica non dimenticate di pregare per lui ricordatelo nelle vostre preghiere anche Parnell la consuetudine della giornata dell'Edera va sparendo poi gli altri seguono cadono in una buca uno dopo l'altro adesso preghiamo per il riposo della sua anima sperando che tu stia bene e non all'inferno bel cambiamento d'aria dalla padella della vita nella brace del purgatorio pensa mai al buco che lo attende dicono che succede quando si hanno i brividi al sole qualcuno che ci cammina sopra avviso del buttafuori vicino a te la mia laggiù verso Fingals il lotto che ho comprato mamma la povera mamma e il piccolo Rudy gli affossatori presero le pale e buttarono giù pesanti zolle sopra la bara mister bloom guardò dall'altra parte e se fosse sempre vivo perbacco sarebbe orribile no no è morto naturalmente naturalmente è morto è morto lunedì dovrebbe esserci una legge fare un buco nel cuore ed accertare o una sveglia elettrica o un telefono nella bara e un qualche tipo di presa d'aria di tela bandiare di pericolo tre giorni è un po' troppo per tenerli d'estate sarebbe meglio levarseli di torno appena si assicuri che non la terra cadeva con un rumore meno sordo cominciava ad essere dimenticato lontano dagli occhi lontan dal cuore il custode si alzò di qualche passo e si mise il cappello ne aveva abbastanza gli altri si fecero coraggio e si coprirono senza parere a uno a uno mister bloom si rimise il cappello e vide la figura corpulenta muoversi con agio attraverso il dedalo delle tombe tranquillamente il sicuro del terreno traversava i tetri campi heinest che annota qualcosa sul tequino ah i nomi ma li conosce tutti no si avvicina a me sto prendendo i nomi disse heinest sottovoce il suo nome di battesimo scusi non mi ricordo bene l disse mister bloom leopold e ci mette anche il nome mccoy me l'ha chiesto charlie disse heinest scrivendo lo so una volta era al freeman c'era prima di avere quel posto all'obitorio sotto louis byrne buona idea l'autopsia per i dottori scoprono quel che immaginano di sapere è morto di martedì cacciato via tagliata la corda coi quattrini di qualche inserzione charlie tu sei il mio amore ecco perché mi ha chiesto di oh insomma mal di poco me non sono occupato mccoy grazie vecchio mio obbligatissimo lasciarlo con questa obbligazione non costa nulla e dica un po' disse heinest conosce quel tale col quello che era laggiù col si guardava intorno mccintosh si l'ho visto disse mister bloom dov'è ora mccintosh disse heinest prendendo nota non ho idea di chi sia si chiama così si allontano guardandosi intorno no cominciò mister bloom voltandosi e fermandosi senta heinest non ha sentito cosa dov'è sparito senza lasciar trazza beh per tutti i c'è qualcuno che ha visto qui k i doppia l diventato invisibile buon dio che ne è di lui un settimo affossatore si avvicinò mister bloom per raccattare una pala inutilizzata oh scusi si fece da parte agilmente la terra marrone umida cominciava ad apparire nel buco saliva quasi finito un monticello di zolle umide salì su più su e gli affossatori deposero le pale tutti si scoprirono ancora per pochi istanti il ragazzo appoggiò la corona su un angolo il cognato la sua su una zolla gli affossatori si rimisero il berretto e riportarono alla carriola le pale terrose poi batterono le lame leggermente sull'erba pulite uno si chinò a tirar via dal manico un lungo ciurlo d'erba uno staccandosi dai compagni proseguì lentamente arma in spalla la lama dai riflessi azzurri silenziosamente a capo della fossa un altro arrotolava la fune il suo cordone umbilicale il cognato voltandosi gli mise qualcosa nella mano libera ringraziamento tacito mi dispiace signore per il disturbo scuotimento di testa lo so bene questo per voi tutti si allontanarono lentamente senza meta in diverse direzioni fermandosi un attimo a leggere un nome su una tomba facciamo il giro della tomba del capo disse highness il tempo c'è andiamo disse mister power voltarono a destra seguendo i propri lenti pensieri con rivelente terrore la voce in colore di mister power disse alcuni sostengono che non ci sia affatto nella tomba che la bara sia piena di sassi che un giorno ritornerà highness scosse la testa parnell non tornerà più disse è là tutto quel che resta di lui pace alle sue ceneri mister blue camminava inosservato per un vialetto lungo file di angeli rattristati croci colonne spezzate tombe di famiglia speranze di pietra che pregavano con gli occhi al cielo cuori e mani della vecchia Irlanda più sensato spendere i soldi in qualche opera di carità per i vivi pregate per la pace dell'anima di c'è qualcuno che veramente piantala falla finita con lui scaricato come il carbone giù per una botola di cantina poi li ammucchiano insieme per guadagnar tempo il giorno dei morti il 27 sarò alla sua tomba 10 scellini per il giardiniere le tiene sgombre dalle erbacce vecchio anche lui piegato in due con le cesoie a tagliare vicino alla porta della morte che si è spento che si è dipartito dalla vita come se l'avessero fatto di loro volontà buttati fuori tutti quanti che ha tirato le cuoia più interessante se vi dicessero chi erano il tal dei tali carrozziere io ero rappresentante di linoleum io ho concordato con i creditori cinque scellini la sterlina oppure una donna con la casseruola io facevo un ottimo stufato irlandese elegia in un cimitero di campagna dovrebbe chiamarsi quella poesia di chi è waltzward o thomas campbell entrato nel riposo dicono i protestanti la tomba del vecchio murren il grande medico lo ha chiamato nella sua casa di cura beh questa per loro è la terra consacrata bella residenza di campagna intonacata e ridipinta a nuovo luogo ideale per fare una fumatina e leggere il church time gli annunci matrimoniali non cercano mai di abbellire corone rugginose appese ganci ghirlande bronzate miglior valore allo stesso prezzo però i fiori sono più poetici l'altro finisce per diventare noioso non appassendo mai non esprime nulla immortel un uccello stava chietamente appollaiato sul ramo di un pioppo come impagliato come il regalo di nozze che ci ha fatto l'assessore cooper non si muove d'un palmo sa che non ci sono fionde per prenderlo di mira animali morti anche più tristi millina sciocchina che seppelliva l'uccellino morto nella scatola dei fiammiferi in cucina una coroncina di margherite e pezzetti di collanine sulla tomba quello è il sacro cuore lo metto in mostra il cuore in mano dovrebbe essere di lato e rosso dovrebbe essere dipinto come un cuore vero l'irlanda fu consacrata ad esso o qualcosa del genere sembra tutt'altro che soddisfatto perché infliggergli questo forse verranno gli uccellini e lo beccheranno come il ragazzo col cestino di frutta ma no disse lui avrebbero avuto paura del ragazzo Apollo si chiamava quel pittore quanti tutti questi qua hanno camminato un tempo per le vie di Dublino fedeli di partiti come tu sei adesso eravamo noi un tempo e poi come ci fa ricordarsi di tutti gli occhi gli incedere la voce bene la voce sì il grammofono mettere un grammofono in ogni tomba o tenerne uno a casa la domenica dopo pranzo metti un po' su il povero trisnonno crac pronto 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 sono felicissimo crac sono stra felice stra felice di vedervi pronto 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 sono felice ti ricorda la voce come una fotografia ti ricorda il viso se no non ti ricorderesti un viso dopo mettiamo 15 anni chi per esempio per esempio qualcuno morto quando ero da Whitson Halley stridìo di ghiaia aspetta fermo guardò intento in una cripta di pietra qualche animale aspetta eccolo là un obeso sorso grigio trotterellava lungo un lato della cripta smuovendo la ghiaia vecchio volpone trisnonno la salunga il vivo grigio si appiattò sotto il plinto dimenandosi ci si infilò dentro buon nascondiglio per un tesoro chi vive là giacciono i resti di Robert Emily Robert Emmett fu sepolto qui a lume di candela vero fa le sue poste anche la coda è scomparsa ora uno di quelli si sbriga presto un uomo ripuliscono le ossa senza guardare in faccia a nessuno ne mangiano tutti i giorni di questa carne un cadavere e carne è andata male e allora cos'è il formaggio il cadavere del latte ho letto in quei viaggi in Cina che i cinesi dicono che un bianco puzza di cadavere meglio la cremazione i preti ce l'hanno a morte cucina alla diavola per l'altra ditta grossisti di bruciatori e graticole al tempo della peste fosse di calceviva per consumarli camera a gas ceneri in ceneri o seppellire il mare dov'è quella torre del silenzio dei parsi divorati dagli uccelli terra fuoco acqua a negare dicono che è il più piacevole vedere tutta la propria vita in un lampo ma essere riportati in vita no non si può seppellire nell'aria però giù da un'aeronave chissà se si sparge la notizia quando le mettono sotto un altro comunicazioni sotterranee l'abbiamo imparato da loro non mi meraviglierei pasto in piena regola per loro le mosche arrivano prima che sia ben morto ha avuto sentore di dignam non gliene importa dell'odore pappa di cadavere bianco sale che si sfalda odore sapore come di rapa bianca cruda i cancelli lucevano di fronte ancora aperto di nuovo nel mondo basta con questo posto ti ci porta un po' più vicino ogni volta l'ultima volta che venne fu per il finirale di missis sinico il povero babbo anche l'amore che uccide e perfino chi scava la terra di notte con la lanterna come quel caso di cui lessi per arrivare a donne sepolte di recente perfino putrefatte con piaghe aperte dopo un po' fa venire la pelle d'oca ti apparirò ti apparirò morta vedrai il mio spettro dopo morta il mio spettro ti ossessionerà dopo morta c'è un altro mondo dopo la morte chiamato inferno quell'altro mondo non mi piace scrisse lei neanche a me tante cose da vedere udire sentire ancora sentire accanto a te calde creature vive lasciateli dormire nei loro letti verminosi non me la fanno in questa ripresa letti caldi vita calda sanguigna martin canningham sbucò da un sentiero laterale parlando seriamente avvocato mi pare lo conosco di vista menton john harry procuratore delegato per giuramenti erogiti dignam aveva lavorato nel suo ufficio da matt dailon parecchio tempo fa i simposi serali di quel mattacchione di matt pollo freddo sigari bicchieri tantaro davvero un cordoro sì menton prese il cappello quella sera alle bocce perché cacciai la palla tra la sua e il pallino tutta fortuna la mia l'effetto ecco perché gli prese un'antipatia così radicata per me odio a prima vista molly e floyd haylon a brazzetto sotto i lilla ridenti uno è sempre così mortificato quando ci sono donne a guardare ha una maccatura nel cappello da una parte probabilmente la carrozza mi scusi signore disse mr bloom avvicinandosi si fermarono il suo cappello è un po' ammaccato disse mr bloom accennando col dito john harry menton lo fissò un istante senza muoversi là intervenne martin canningham accennando anche lui john harry menton si levò il cappello fece sparire la maccatura e illustrò il pelo con cura sulla manica si rincalcò il cappello in testa ora è a posto disse martin canningham john harry menton abbassò di scatto la testa in segno di ringraziamento grazie disse seccamente proseguirono verso i cancelli mr bloom avvilito si tenne indietro di qualche passo in modo da non sentire quel che dicevano martin dettava legge martin sapeva rigirarsi una testa di cavolo come quello senza che lui se ne accorgesse occhi da pesce morto non ci badare forse gli dispiacerà dopo quando si renderà conto così avrò un vantaggio su di lui grazie quante arie ci diamo stamattina grazie a tutti Grazie.